Capitolo 10 «Belly, hai telefonato a papà?» mi chiese mia madre. «No». «Faresti bene a chiamarlo e a raccontargli come stai?» Alzai gli occhi al cielo. «Dubito che sia in ansia per me. Beh, dovresti farlo comunque». «Bene, hai ordinato anche a Stephen di farlo?» replicai. «No», rispose lei con il suo solito tono. «Tuo padre e Stephen fra poco trascorreranno due settimane assieme per scegliere l'università. Tu, invece, non lo vedrai fino alla fine dell'estate. Perché mia madre doveva essere così ragionevole? Con lei era sempre così. Lei era l'unica persona capace di avere un divorzio ragionevole». Si alzò e mi porse il telefono. «Chama tuo padre», mi disse, uscendo dalla stanza. Usciva sempre dalla stanza quando telefonavo a mio padre, quasi volesse concedermi un po' di privacy. Come se dovessi raccontare a mio padre dei segreti che non potevo raccontare di fronte a lei. Non lo chiamai. Abbassai la cornetta. Doveva essere lui a chiamarmi, non viceversa. Era lui il padre. Io soltanto la figlia. E poi, i papà non avevano niente a che fare con la casa estiva. Né mio padre, né il signor Fisher. Certo, di tanto in tanto venivano a trovarci, ma quello non era il loro posto. Non gli apparteneva. Non nel senso in cui appartenevano i ragazzi e alle mamme.